smart italia buongiorno anche oggi vi raccontiamo il paese che non si ferma nonostante le difficoltà oggi parliamo con la nostra collega stefania mulas che oltre ad essere responsabile di alcuni progetti in regione sardegna gestisce la parte virtuale le nostre aule in cui si fanno formazione incontri ecco cerchiamo di capire grazie a stefania qual è lo sforzo che si sta facendo per andare incontro in un momento così difficile ai dipendenti del form e soprattutto ai nostri stakeholder ai vari destinatari delle nostre azioni che attraverso i capi progetto non possiamo lasciare i soli in questo momento stefania buongiorno buongiorno claudia buongiorno allora sì cosa abbiamo fatto soprattutto in questo periodo in cui abbiamo questa emergenza coronavirus abbiamo messo a disposizione di tutte le aree del formex un'aula virtuale la nostra aula virtuale è adobe connect una piattaforma di videoconferenza proprietaria di cui abbiamo acquistato delle licenze e abbiamo messo a disposizione delle aree del formex un'aula virtuale oltre che avere delle aule virtuali che utilizziamo per tutti i progetti del formex e quindi per il webinar come succede con queste aule virtuali ogni responsabile di progetto ogni dirigente può attivare un'aula virtuale per mettersi in comunicazione quindi fare riunioni virtuali e riunioni online con i propri committenti con i propri stakeholder e appunto comunicare informare e formare le persone attraverso insomma virtualmente ecco quindi vediamo le opportunità non è soltanto l'opportunità quindi di fare una diciamo una riunione online possiamo continuare anche le nostre attività ad esempio i webinar oppure quali sono ecco anche rinunciare ad una missione ci consente di incontrarci in queste aule sì allora cosa possiamo fare con le aule virtuali con gli stakeholder possiamo mettere a disposizione un ambiente che è sostituito da diversi contenitori a seconda dell'attività che vogliamo svolgere perché per esempio possiamo svolgere una semplice riunione online e quindi basta attivare un'aula e un contenitore video in modo tale che tutti ci possiamo vedere e interlocuire possiamo utilizzare un altro contenitore per la condivisione dei documenti e quindi lavorare collaborativamente tra insomma i partecipanti alla riunione possiamo fare dei colloqui a delle persone delle interviste delle video interviste possiamo attivare qualsiasi tipo di contenitore che insomma risulti atto alla buona riuscita di una collaborazione tra formate e comitenta in questa emergenza molto probabilmente il tuo lavoro aumenterà aumenteremo il numero di webinar è sicuramente già aumentato perché questo strumento veniva fino a 15 giorni fa utilizzato quasi esclusivamente per i webinar ma venivano accompagnati insomma le attività e i progetti non erano solo online ma soprattutto in presenza per cui si facevano seminari in presenza, riunioni in presenza adesso questa emergenza ha portato ovviamente anche per decreto a utilizzare smart working a fare le riunioni online, a lavorare soprattutto virtualmente e quindi è senz'altro aumentato il traffico della nostra delle nostre aule virtuali e sicuramente anche il mio lavoro e di tutti i coro che nella mia area innovazione digitale si occupano di fornire sistemi e servizi digitali ai colleghi e ai responsabili di progetto del format quindi tutti hanno un annuncio a tutti gli affezionati, ai vostri webinar del format che sono già tantissimi continueremo a starvi addosso, ad essere presenti con le nostre attività anche di più ce la faremo Stefania? ce la faremo assolutamente, ne sono convinta lo ero già prima dell'emergenza per cui questo è stato forse lo sblancho che ci serviva grazie, buona giornata grazie, buongiorno, ciao, arrivederci